Buongiorno. Maria Teresa Gianni è una di quelle poetesse che lavorano in silenzio, a partate, senza fare chiasso rumore, proclamare di aver vinto premi a destra e a sinistra, tant'è che è perfino difficile trovare una sua nota curriculare. Io, fortunatamente, ho molti suoi libri e la trago da uno di questi, il sogno del mondo, solo per dire che è nata nel 43 a Uboldo, in provincia di Varese, dove vive. Ha insegnato inglese nella scuola media, ha pubblicato e via dicendo, poi elenca qualche libro, io ne possedo svariati, Nel profondo alto, edito da L'Adolfi, Alle radici del principio, sempre edito da L'Adolfi, e sempre edito da L'Adolfi, Prima della luce, Questa forza di pace, edito da Leoni, e voglio parlare oggi di L'integrità del mondo, edito da Contatti. Ho questi libri perché me li manda lei, come talvolta si usa fare fra addetti ai lavori. È una poesia di pensiero, vertiginosamente proiettata all'indagine della metafisica. Un endecasillabo estremamente elegante riesce sempre a centrare un obiettivo naturalmente fantastico pescato nel cuore del creato e del creatore. L'integrità del mondo non fa eccezione. Vi leggo un paio di testi. Questo è un libro, è più recente, è uscito nel 22, per l'appunto. Una delle prime parole si intitola In morte e segue in tre momenti. Io vi leggo solo il primo, La materia. Rivolge un tu, non si sa se sia la persona scomparso oppure Dio. Dove tu sia non è dato sapere. Se fossi te, vorrei essere libera Nell'etere un pensare palese, ebrezza pura i sensi, e sottile tanto da penetrare rocce interdette, Infiltrandone l'aspro grigiore ed anime spente, addolcendone il gelo con vibrazioni di canto sua dente, Ed esplorandone gli arabeschi di quarzo e d'argento, le pomici e lo zolfo dei primitivi ribollimenti dell'interiore, Attingervi il filo rosso di fuoco e di sangue che orienta l'universo, Ai sepolcri di polveri agli altari di luce, e come in vita così nei labirinti della morte, far bene guidare. La luce è una dominante perché è l'obiettivo della ricerca poetica di Maria Teresa Gianni. Chiudo con il destino finale delle parole. Comuni o preziose le parole, domestiche o profetiche, nei salmi della Chiesa, asservite ai cimenti sanguinosi della storia o sublimate nei letterari tormenti di amore e morte, Torneranno infine al loro primo afflato di moti d'anima, che, trascesi in sguardi, screzzino i spazi di fluidi messaggi, onde musicali come culle di senso e melodia di toni, a danzare nella luce del mare dello spirito. Maria Teresa Gianni, l'integrità del mondo, Contatti 2022. Grazie e arrivederci.